Con una palla vicino a Rete si va a casa prima di iniziare, il centro è fenomenale. Siamo stati bravini un po', ci siamo sciolti, Yuri ha fatto fatica, non è stato molto bene, quindi ho preferito superarlo, lo stesso Leal, vedo i ginocchi, non sapete, non perfetto, avevo paura di sovraccaricarlo da qualche problema, perché magari se perdiamo questi giocatori dobbiamo essere veramente oculati nel gestire questi ragazzi e questa squadra, qualcuno ha bisogno di prendere il ritmo di gioco, abbiamo giocato meglio loro, sono stati bravati. Il problema di Romano, che ha venuto con il viaggio, ha recominato il muscolare, avete già un'idea di cosa? No, io prendo sempre a parlare di muscoli, mi rilasso, li metto in panchina, in due, l'ha detto, Romano, forse posso provare, ma provo in indoneo, perché se provi poi si apre la staccia, 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 è stato super utilizzato, avevo avuto bisogno di più di tempo, avevo avuto, e quindi ho preferito la mia risposta. Sei preoccupato dalla mancanza di reazione, oppure secondo te è un problema più tecnico? Secondo me è fisico e tecnico, non sono preoccupato troppo dalla squadra, la squadra ha bisogno un po' di ritrovarsi, questa è una squadra che a mio modo di vedere ha bisogno di tempo, bisogno di tempo perché non è pronta, né tecnicamente né fisicamente, abbiamo dimostrato chiaramente nella gara di oggi dove non siamo riusciti a essere competitivi, siamo pro là, e quindi con grande pazienza, cercheremo di mettersi in palestra, con serenità, per ogni anno rimettere l'uso di questa squadra. Grazie.